Dal 28 al 30 settembre nuova edizione di Puliamo il Mondo, la più grande iniziativa di volontariato ambientale organizzata in Italia da Lega Ambiente in collaborazione con l'Anci. Tre giornate occasioni di incontro con i cittadini per sensibilizzarli al rispetto e alla cura dell'ambiente, quest'anno ricche di eventi su Napoli. Quest'anno siamo riusciti come amministrazione, ringrazio anche Asia, a mettere insieme uno sforzo per fare un Puliamo il Mondo che è come tema libero dai pregiudizi e in più è dedicato alle periferie. All'interno di questi appuntamenti, invito tutti i cittadini e i bambini perché sarà una bellissima azione di cittadinanza attiva, c'è un fondamentale significato, un impegno che avevamo preso come amministrazione. Io in modo particolare, questa volta sottolineo l'io perché a fianco a me c'è Mary, la sorella di Ciro Colonna, abbiamo voluto assolutamente dedicare la pulizia ai giardini Ciro Colonna, dove sarà anche scoperto un monumento, un piccolo segnale, davvero un piccolo segnale rispetto a quel pregiudizio perché Ciro Colonna è una vittima innocente e quindi noi siamo contenti perché saranno rimessi a nuovo anche i giardinetti con piantine eccetera. Quindi un Puliamo il Mondo che, grazie ripeto ai volontari di Legambiente in tanti anni, rappresenta un abbraccio in tutti i luoghi della città anche con dei punti significativi e soprattutto a questa famiglia che poi ha dato l'esempio di una grande Napoli. La campagna nazionale dedicata al tema della riduzione dei rifiuti è intitolata Non temerli, raccoglili e coinvolgerà in città tre aree del territorio comunale. Venerdì 28 settembre l'appuntamento è nei giardini di Ponticelli dedicati a Ciro Colonna, vittima innocente di criminalità. Sabato 29 il ritrovo è alla fontana della Scapigliata in piazza Forcella e domenica 30 pulizia e passeggiata culturale lungo le scale del Moiariello. Puntiamo ad ottenere che i cittadini diventino veramente parte attiva di quello che accade nella loro città e dei luoghi che abitano. Questa è stata sempre la politica di Legambiente e di Puliamo il Mondo. Quindi questo è l'obiettivo. L'obiettivo è la cura, è la cura dei luoghi. E questo è un passo che noi facciamo ripetutamente e dal quale poi partono moltissime iniziative e anche proprio un'affezione diversa verso i luoghi che si abitano.